Da bambino chiesi al mio parroco come si fa ad andare in paradiso e al tempo stesso proteggersi da tutto il male che c'è nel mondo. Mi rispose con le parole che Dio disse ai suoi figli. Eravate pecore tra i lupi. Siate prudenti come serpenti, ma puri come colombe. Grazie per la visione.